Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa, dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico, come questa sfoglia emiliana tirata con cura fino a diventare un velo di sapore. Barilla che ne ripropone il segreto con le spianarelle, così a tavola scopri le miglie, vere miliane, vero piacere. Dove c'è Barilla c'è casa.